E' stato celebrato al CUS di Bari Pietro Mennea, uno dei campioni più amati e oro olimpico di Mosca nel 1980 nel 37esimo anniversario del record del mondo. La pista di atletica del centro universitario sportivo è tornata ad animarsi dopo la brevissima pausa estiva con bambini per una gara non competitiva sulla distanza dei 200 metri. Aperta a tutti gli studenti dell'Ateneo e Politecnico di Bari, degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, atleti tesserati appartenenti alle federazioni sportive e tutta la cittadinanza. Presenti Silvio Tauri, presidente del Comitato per lo Sport Universitario, il direttore tecnico sezione atletica CUS Bari, Vito Nacci. Quel 12 settembre 1979, il valoroso atleta di barletta Pietro Mennea sulla pista di Città del Messico, correndo con la maglia del CUS Bari durante l'università di Fermo, il cronometro col tempo 19,72 sulla distanza dei 200 metri, stabilendo il record mondiale che rimase inviolato sino al 1996 e che resta ancora oggi il record europeo. E' emerso proprio questo suo legame con l'università di Bari e tra l'altro Pietro Mennea è stato un tesista di Antonio Uricchio, cioè il nostro magnifico rettore, d'onde il rafforzamento recente anche di questo rapporto per noi è un'immagine, un'icona della storia dell'università di Bari. D'altronde lui ha fatto il record che oggi ricordiamo durante le universiadi, quindi correndo con la maglia dell'università di Bari. Pietro Mennea oltre ad essere stato un grandissimo atleta, è inutile stare a ricordare tutti i suoi record delle sue imprese sportive, ciò che più conta è che è stato un grandissimo uomo, un esempio di umiltà, di modestia, di dedizione al lavoro e di capacità di realizzare qualsiasi cosa un uomo o un atleta si prefigga. E quello è il messaggio più importante che noi dobbiamo raccogliere e trasmettere ai bambini. Lo sport, quello sano, deve preparare fondamentalmente alla vita, ad essere degli uomini migliori e non certamente dei primatisti del mondo, perché primatisti del mondo magari ne viene fuori uno su mille. Gli altri 999 devono essere dei cittadini e delle persone che devono aver fatto questo percorso di sport e di vita che deve portarli a sapere come comportarsi, a conoscere i valori veri. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldomoro Antonio Felice Uricchio e dal presidente del CUSBARI Giuseppe Seccio.